Siamo al Flacabay, il tempio della musica, bireria, disco, cabarea, Capodimonte, Napoli, sabato in Maya Room, DJ Nino Spillo. All'Incas Privé invece DJ Miguelito, con musica revival, cartoon music latinoamericano, il fantasy bar di Pier Tordella. Per quanto riguarda gli ospiti per il cabaret di ottobre, Guido Palligiano, Teresa Lallo, Cuginetti Asfera e Ali Vernini. L'infoline è 081-741-90... Amici di Wicked Dance, con il Flacabay inaugurazione, grande serata, con me c'ho il vocalist resident del Flacabay che si chiama? Giampa. Ecco, ha detto Giampa, loro non sentono, ma in televisione si sente. Allora, tutto l'autunno e inverno, grandi appuntamenti al Flacabay. Sì, grandi appuntamenti, come al solito, ci sono io, c'è Nino Spillo, di un piacente che ci viene a trovare spesso, e poi c'è un sacco di bella gente, ma penso che i ragazzi a casa lo vedranno, grandi appuntamenti con il capareco, la musica dal vivo, con un sacco di cose che dovete venire a scoprire qui da noi ogni sabato. Oh, per chi non lo sapesse, lui, la voce ufficiale anche dalle schede di Wicked Dance, come fa? Wicked Dance, original. E allora, volete salutare un po' di gente? Vorremmo sentirvi anche cantare, se ce la fate però. Siete pronti? Un solo grido per gli amici che ci guardano in televisione in questo momento. Tirate il piatto, fuori la voce che arriva! Dai! Ah, ah, ah! E il ritmo continua alla grande al flacabè per un live Wicked Dance e coloro che ci guardano in questo momento in televisione, mi raccomando, questa discoteca... E' il faria completamente rinnovato, ma tagliamo anche con i Vintus che sono la colonna di questo locale. I vincici fratelli pittus Suidori Su 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 E on live È bellissimo Guarda che si guarda Allora Avere noia di cantare la corda insieme a noi questa sera o no? Tanto giochiamo in casa perché la piaccia in regia non è difficile a due weekend e su Giappone, tra due il sabato, vai! Corriamo qua a cantare così ci alleniamo le corde notari. E' un'altra cosa che non è difficile a due weekend e su Giappone, tra due i giorni e su Giappone. Non è difficile a due weekend e su Giappone, tra due i giorni e su Giappone. Giuseppe, Fernando! Ma dico io, capita tutto questo casino quando organizzate il sabato notte alla Curti? Siamo grandi, non chiediamo mai di stupire. Siamo sempre più forti. Ma per agosto, per luglio che cosa ci riservate? Ad agosto andremo in Calabria a gestire il Fortaleza. A Diamante. Mentre per luglio ci sono titoli e strade a trema per ogni sabato, incominciando dal sabato prossimo, lo scelto tavolo di Carlo Ferrari. Parliamo anche con l'altra metà dei parlati Pintus. Insomma, la Curtis, anche quest'estate, si è rivelato come uno dei locali più frequentati dai nottamboli napoletani. È un locale che da tre anni sicuramente ha una tendenza particolare, soprattutto con la gente che curta a Napoli. Ed è gente simpatica, come possiamo vedere, è gente che si vuole divertire. C'è la grinta in questo locale, è la gente quella della grinta. Ma Fernando, il segreto della Curtis che fa arrivare tanta gente al sabato notte, quale? Diciamo agli amici di Unicandello. È il successo dei fratelli Parlato, dei fratelli Pintus, la continuità, soprattutto averci creduto di un'estate stupenda. Noi crediamo nella continuità di un locale, soprattutto crediamo in un locale che si è fatto di bella gente, un locale sano, quindi ringraziamo tutti coloro che vengono alla Curtis il sabato sera, soprattutto la nostra organizzazione e i ragazzi che lavorano con noi. Un saluto, è arrivato un altro socio, Pierluigi Cerenza. Chi sei tu? Pierluigi. Un altro socio. Un altro. E dov'è? Eh? Dov'è? Ma un po' in giro, di attività. Buon'estate da Weekend Dance e dalla Curtis. Ciao. Ciao. Questa è la console da Curtis, sono tipi un po' strani, li vedete anche da loro volti, ma non dimentichiamoci anche della musica dal vivo, esclusivamente italiana, di Paccano Nostrano che sono in toilette, quindi noi li possiamo intervistare. Presentiamo, Massimo Niespolo, come stai? Ragazzi, buonasera. Qui la Curtis è un pianeta fantastico, eh? E poi c'è Gino Piacenti che fa il resto. Poi c'è Giampa che è il vocalista. Salve. Cosa è a posto? Mi devi pagare per parlare. No, mi paghi tutto dopo, se no ti tagliamo. Minos Pillo. Giocavano all'Inter, non l'ha detto Giampa prima, eh? Comunque è grande. Senti, ma ti diverte il sabato qui? Non vedi, guarda. Che musica bassi? Passiamo di tutto, comunque facciamo soprattutto commerciale qui. Grande divertimento, comunque passiamo di tutto. Il sabato notte. Voi è inutile intervistarvi, intanto lavorate qua tutta l'estate, altrimenti chi vi paga? Chi vi chiama? Ma pensa che noi abbiamo pagato per lavorare qui. Ecco, loro pagano la Curtis per lavorare. È ovvio, certamente, altrimenti cosa faremo? I bagnini, no? All'Ido Capri. Infatti, ci vediamo all'Ido Capri, mi raccomando. Allora, buonestare. È ovviamente buonestare a tutti. Buonestare a tutti e alla Curtis. Ciao, Spillo. Uno ciao, una buonestare a tutti e al pubblico di Weekend Dance. Ciao, Dino. Weekend Dance. Che parecchio pure amare. Sì, no. Ancora Flagabè per Weekend Dance dal latino americano. Un'altra pista, quella della dance. Ci sono migliaia di giovani il sabato. Poi, quando arriviamo noi, si fa festa. E allora, riusciamo ad entrare nella console. Entriamo nella console del Flagabè. E vi porto dal caro amico Ciampa. Come stai? Tutto bene. Stai su Weekend Dance? Quando ci siete voi di Weekend Dance va sempre tutto bene. Va sempre bene. Allora, buon divertimento. Vi fate vedere le mani in alto, poi non spedisci la casa. Ok, amici di Weekend Dance, parte la sigla del Flagabè. Flagabè, Weekend Dance, Dino Piacenti e il pubblico. E il povero del Flagabè. Questo è il Flagabè. Io vi trovo in console con Ciampa. Ciao. Ciao, amici di Weekend Dance, amici del Tempio. Vai Flagabè che sono stasera qui con noi. E questo è il DJ del Flagabè che si chiama... Ciao, Dino. Mi chiamo Dino Spi. Ciao. Mi chiamo Dino Spi per voi, la voce che mi arriva al cuore e mi chiampa. Le luci e le atmosfere di sono di Salvatore. Stasera da noi Dino Piacenti e Weekend Dance. E che noi siamo quelli che non ci fermiamo mai. Muoviti, muoviti così, dai. Weekend Dance Live. Questo è il Flagabè il Tempio. A Capo di Montenapoli, tutto in diretta. Quello che accade il Sabato l'Opbe. Un ringraziamento ai Vintus, a Nando e Mauro, che sono veramente in gamba nell'organizzare il Sabato a Flacabè. You are the king of my castle. Buon appetito. Buon appetito. Weekend Dance Live. Flacabè il Tempio. Capo di Montenapoli. Ok. La canzone del Flagabè. Con Mauro parliamo dopo. Un sabato alla grande, prima del Viglione. Come sempre. Nino Spillo. Ciao. Occhio, occhio, occhio. Giampo, allora, domani Gran Viglione al Flagabè, eh? Sì. Grande storia, perché ci sono io, la radio CRC, c'è Nino Spillo, un sacco di sorprese, musica dal vivo, grande gente, quella la stanno guardando, gli amici da casa. Un modo intelligente per cominciare l'ultimo anno del millennio, no? Poi gli auguri ce li facciamo telefonicamente, dai. Non lo vuoi. Facciamoli saltare questi, dai, su. Weekend Dance Live, Flacabè, il Tempio a Capodimonte. Un saluto delle persone che in questo momento vi augurano buon anno. Perché domani sera Gran Viglione in tutte le discoteche d'Italia, anche della Campania. Gran Viglione anche al Flagabè, il Tempio, domani sera, a partire dalle 23. Questo è quello che accade ogni sabato al Flacabè, il Tempio a Capodimonte. Noi ci salutiamo, ma ricordiamo ancora il grande appuntamento domani al Flacabè, il Gran Viglione, per dare un benvenuto al 1999. Voglio chiudere con le persone, perché loro vi salutano sicuramente. A domani, ciao. Qui in compagnia del DJ Spillo e del vocalist Ciampa. Ciao ragazzi. Lui è Nino Spillo, buonasera. Questo è il mio amico Ciampa, tutto a posto. Eccoli, a chi vuoi salutare in telecato? Chi vuoi salutare, dai, chi vuoi? Salutare tutti gli amici di Weekend Dance, tutti i ragazzi che adesso ci fanno vedere le mani in alto! Ecco la pista della discoteca del Flacabè. Migliaia di persone che il sabato sera scelgono questo locale. Ciao, venire gli amici che sono a casa. Questo è il Flacabè, l'animazione di Ciampa in questo momento. E tutti gli amici che sono a casa. Ciao Ciampa, ciao! Ecco, è un po' difficoltoso, però io cerco di camminare. Intanto la Stili va sulle ragazze che ballano in questo momento. I'm so excited. È Nina, la fanciulla che in questo momento sta ballando, anzi sta facendo ballare il pubblico del Flacabè. Ecco qua che arriva anche Rino e noi naturalmente. Ciao! Ciao! Amici di Weekend Dance, questa è la console più pazza della campagna e lo potete vedere anche da voi. Cosa fa lei con questo microfonino? Niente, nulla. Sono qui, venuto a ballare col microfono. Spillo! Ora, attenzione! Eccoli qua! Gli amici che guardano Weekend Dance al Flacabè. Tutto live! Weekend Dance al Flacabè Capodimonte, Bonti Rossi! Il sabato notte è targato Pintus! Grande organizzazione e tanta bella gente che si diverte. Eccoci! Entriamo in questa console di fuoco e andiamo a trovare gli amici. Eccoli qua! Buonasera, buonasera! Ciao bello! Come stai? Tutto bene? Tutto bene, questa è la gente che ci viene a trovare gli saluti. Facciamoli salutare, dai! Allora, voglio vedere le braccia che vanno gli autori. Flacabè! Tutto live dal Flacabè con Weekend Dance in esclusiva. Un capodimonte, Weekend Dance, perché è una serata particolare. Festa di fine anno, il Mach-P. Ciao Giampo, facciamoli salutare. In diretta per Weekend Dance. Li facciamo sedere e li facciamo saltare. Eccoli qua, i ragazzi del Mach-P al Flacabè con Piacenti e Giampo. Oh, è andata bene, eh? È andata benissimo. Li facciamo saltare, li facciamo salutare. Tutte le serie, adesso le mani per Weekend Dance. Vai, facciamoli salutare, facciamoli saltare. Live al Flacabè. Panoramica dei ragazzi che si divertono per la festa di fine anno. Ma quante persone ci sono a Flacabè stasera? Anche Cristina, guardate com'è carina e come si muove, bene. Eccola lì. La festa di fine anno, 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 la festa di fine anno molto bello, come c'è Lino? Come stai? Ciao Lino! Proviamo a spegnere un po' il piatto e sentiamo anche l'urlo della Curtis! Le mani bene in alto anche in fondo così vediamo quanti ne siete questa sera con Weekend Dance! Ci fate sentire un po' la vostra voce? Possiamo cominciare, dai! In alto, restate in alto con le mani, bene in alto, perché questo è un gran bel disco ragazzi, ha un effetto incredibile! Intanto salutate chi vi pare, tanto è tutto gratuito, anche lì guarda! Questo è la Curtis! 9 p.m. e ATB! Weekend Dance Live, la Curtis Nino Spillo, qua piove! Qua piove sì, però ci divertiamo tutti! Guarda quante persone si divertono per questa serata particolare che è l'ultima dell'estate 99, diciamo un gemellaggio tra il Fortaleza in Calabria e la Curtis qui in Campania! Esatto, il gemellaggio della Fortaleza e la Curtis! E poi DJ bagnato, DJ fortunato, Nino Spillo, tra pochissimo, tra pochissimo cominciamo col Flaga Bay a metà ottobre, no? Sì, sì, esatto! Ma gli amici di Weekend Dance non ti hanno mai visto ballare, muoviti un po' Conino, dai! Muovono, dai! Weekend Dance Live dalla Curtis e quante persone ancora che ci salutano perché si balla anche con la pioggia! Ciao! Ciao Dino! Porchis Television! Ciao amici di Porchis Television! Un bacio, un bacio a tutti! Ciao, un bacio da Nino Spillo!